ciao a tutti oggi prepareremo il salmoriglio il tempo di preparazione della ricetta è di cinque minuti circa gli ingredienti sono olio evo succo di limone prezzemolo aglio sale pepe e origano diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'aglio e il prezzemolo ed azionare il bimbi per quattro secondi a velocità 6 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere l'olio il succo di limone il pepe l'origano ed il sale ed azionare il bimbi per 30 secondi il salmoriglio è pronto trasferire in una salsiera salmoriglio ideale per insaporire carni pollo pesce e verdure grigliate si conserva in frigo per 3 4 giorni grazie e alla prossima ricetta salmoriglio ideale salmoriglio ideale